Continuano le interviste ai amministratori del Cilento. Oggi ospitiamo il sindaco della città di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, per fare un po' il punto della situazione sull'emergenza coronavirus, ma anche per parlare di altre situazioni che si stanno realizzando nella città dei Templi. Franco buongiorno, innanzitutto come stai? Buongiorno, bene, bene, diciamo al lavoro come sempre. Benissimo, allora iniziamo con il fare un aggiornamento per quanto riguarda la situazione covid nella città dei Templi. Ieri sera il report ha dato zero contagi nella città di Capaccio Pestum, un'ottima notizia, ma siete fermi a 35 positivi se non sbaglio. Zero nella giornata, magari siamo a 30 invece, 30 contagiati, 2 che sono in ospedale e 46 persone in quarantena. Questo è il dato così completo, magari. Era il dato della giornata, quindi alcuni hanno fatto pure polemiche perché bisogna leggere, ma bisogna anche capire. Qualche maldestro, qualcuno che cerca sempre di mettere in cattiva luce, però era il dato della giornata. Ieri non ci sono stati contagi. Sì, infatti mi riferivo proprio al report giornaliero, in quanto ieri sera la città di Capaccio Pestum ha registrato zero contagi, però ovviamente è ferma a 30 persone positive purtroppo. Come state procedendo quindi nella città di Capaccio Pestum per quanto riguarda le ordinanze e le restrizioni? Ma è ormai un'organizzazione ben rodata, medici di base, laboratori anche privati, l'ASL che funziona nei tempi giusti, polizia locale. Io sempre pronto a sottoscrivere ordinanze, mi pare che non c'è né allarmismo né eccessiva preoccupazione. Certo, c'è uno stato d'animo da parte della popolazione, come lo è in tutta Italia, abbastanza teso, però ecco, ci siamo, lo dobbiamo affrontare con grande serenità e con la giusta preoccupazione, rispettando le regole, ma non dobbiamo né stare in panico, perché il panico non fa bene a nessuno. Però è una città di 23 mila abitanti, 30 contagiati, siamo ormai in una regione che conta circa 3-4 mila contagiati al giorno, quindi siamo anche nel territorio campano. Dobbiamo, credo, aspettarci che, così come d'altra parte ci viene anticipato anche da chi ne conosce, ne sa più di noi, il picco fra qualche settimana. Ci auguriamo però che ci siano le strutture sanitarie pronte e soprattutto che non siano affollate da chi non ne ha bisogno, perché purtroppo anche le strutture sanitarie sono affollate da chi non ne avrebbe bisogno. Quindi molte volte le cure vengono sottratte a chi ne ha davvero necessità. Franco, sta facendo un po' discutere nei giorni scorsi, ma anche attualmente, la collocazione della regione Campania nella zona gialla. C'è chi invece preferirebbe essere collocata nella zona arancione. Che cosa ne pensi, visto anche che ci sono città del napoletano, soprattutto, che registrano altissimi livelli di contagi? La mia è un'opinione, ovviamente, di un sindaco, di una persona che cerca di mettere sempre il buonsenso al primo posto. Diciamo che qualsiasi opinione ha i suoi pro e i suoi contro. Io credo che con la diffusione del contagio, a livello della diffusione del contagio che abbiamo, probabilmente, era meglio una decisione drastica per 20-30 giorni. Capisco non un lockdown totale, ma credo che probabilmente le giornate, così come si sono consumate domenica scorsa, soprattutto nelle grandi città, corsi lungomari affollati, come se nulla fosse, come se fosse una giornata normale di 3-4 anni fa, credo che non ce le possiamo consentire. Quindi c'è disinvoltura, c'è irresponsabilità e probabilmente il nostro popolo, noi cittadini italiani e meridionali, siamo abituati a rispettare le regole quando ci sono imposte, non quando le dobbiamo rispettare per senso di responsabilità. Probabilmente pagheremo questo rallentamento delle regole e dei divieti, allungheremo i tempi per uscircene, però è certo che questo rallentamento impatta meno sull'economia. Però capire le conseguenze in definitiva, quali saranno, sia sulla salute che sull'economia, ci vuole la palla di cristallo, la palla di un mago. Però io sono dell'avviso che probabilmente un fermo più energico su tutto, forse da qualche settimana avrebbe prodotto sicuramente conseguenze migliori e ce ne saremmo usciti prima. Oggi siamo in una condizione dove non siamo né carne né pesce, 4-5 mila, 3 mila contagiati al giorno, domeniche di sole con il lungomare di Napoli, il corso di Salerno, il corso di Napoli, ancora locali che non capiscono che non si possono permettere più assembramenti e aperitivi come se nulla fosse, credo che probabilmente non stiamo facendo bene il nostro dovere di cittadini, di attività, e probabilmente pagheremo caro questo rilassamento. Domani ci sarà la consueta diretta del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e chissà che non ci propone diverse restrizioni, come già ha anticipato in una nota stampa, che andrà verso restrizioni ancora più severe. Vedremo domani che cosa deciderà. Ovviamente nonostante l'emergenza coronavirus, l'amministrazione comunale guidata da Franco Alfieri non si ferma, tant'è che questa mattina si sono avviati i lavori per la ricollocazione della seconda cupola geodetica in località Licinella. Una bella iniziativa che darà più respiro alla zona, anche per le attività. Certo, era questo un impegno assunto, come sapete qualche anno fa furono investiti circa 700-800 mila euro per l'acquisto di queste sfere montate nella zona archeologica, poi fatte smontare dal Ministero dei beni culturali, però restarle smontate in deposito sarebbe stato uno spreco. Abbiamo scuole senza palestre, abbiamo intere contrate senza impianti sportivi, senza luoghi dove possono essere svolte attività polivalenti, e quindi il nostro impegno era quello di rimontarle. La prima è stata già montata in fase di completamento a Gromola, sempre presso edifici scolastici, la seconda alla Licinella, in zona tra Torre e Licinella, anche qui presso un edificio scolastico importante, abbiamo acquisito al patrimonio pubblico 12.000 metri quadrati, nascerà lì un grande parcheggio, una villa comunale, perché abbiamo avuto la fortuna che in parte di quei 12.000 metri quadrati ci sono enormi e bellissimi piante di leccio, quindi monteremo la sfera geodetica lì, 1.300 metri quadrati coperti, con la possibilità di realizzare all'interno un campo di basket polifunzionale, calcetto e pallavolo, quindi dotare la scuola della palestra, ma anche per la contrata la possibilità di praticare sport, per gli anziani di ballare, insomma un luogo di 1.300 metri quadrati coperti per utilizzarlo tutto l'anno, quindi una bellissima iniziativa che fa passare insomma una vicenda da spreco a risorsa per il tempo libero, concedere e dare un diritto ai nostri ragazzi di poter svolgere l'attività ginnica come dovrebbe essere in una scuola dignitosa che completa di tutte le sue strutture e soprattutto una località di poter vivere uno spazio al coperto e anche all'aperto in questo caso 12.000 metri quadrati saranno riqualificate al centro tra Licinella e Torre, quindi potranno essere fluidi dalla comunità prima dei residenti o di che poi dei turisti che ci onorano della loro presenza. Ecco un altro intervento importante, Franco, che ne parlavamo anche nei mesi scorsi durante il lockdown, quando ti abbiamo più volte intervistato sempre in web conference riguarda insomma la fascia costiera di Capaccio Pestum, ecco un'altra importante iniziativa che i cittadini di Capaccio attendevano da anni. Sì, il 23, così diamo un'anticipazione, il 23 novembre sarà posata la prima pietra del primo lotto del lungomare, questo davvero è un intervento epocale. Sappiamo benissimo che Capaccio Pestum ha la grande fortuna di avere 13 chilometri di costa, di spiagge, ma non un metro di litorale, di lungomare fruibile, né dai residenti, dai cittadini, io dico sempre prima i cittadini, la città è prima dei cittadini e poi dai turisti. Quindi parte questa grande opera che ovviamente è soltanto il primo lotto ma sono ormai in itinere altri tre lotti quindi saranno realizzati tre chilometri di litorale in località Laura dove sono presenti stabilimenti balneari, dove ci sono le strutture recettive, quelle un po' più importanti, dove c'è la recettività turistica più importante della città e la zona più popolosa anche, quindi tre chilometri di fascia costiera riqualificata, integrata con la fascia pinetale, quindi un importante storico e decisivo intervento di riqualificazione della fascia costiera che cambierà la vita, il destino, l'economia di Capaccio Pestum. Poi abbiamo già provato un progetto preliminare che vede anche un intervento sulla fascia tra Torre e Licinella ma quello sarà un intervento molto più diciamo di natura leggera, pedonale perché siamo nella 220, siamo in una fascia meno antropizzata, però ecco questo sarà un intervento più al di là da venire ma ecco sono molto contento perché siamo a poco più di un anno di amministrazione con mesi e mesi di covid che ha fermato l'Italia e noi andiamo ad aprire importanti cantieri a concludere procedimenti amministrativi con procedure anche complesse in zone vingolate con decine di pareri progettazioni esecutive, appalti e iniziamo anche i lavori quindi sono davvero soddisfatto e d'altra parte la città di Capaccio Pestum meritava un'azione amministrativa così imponente, importante, avvincente e d'altra parte mi hanno scelto sapendo che il sindaco Alfieri è capace di queste cose e poi c'è a fianco a me un'amministrazione comunale giovani, uomini e donne che vogliono e che mi assecondano in questa importante avventura amministrativa non solo grandi opere pubbliche ma anche grande attenzione per le contrade insomma per la città di Capaccio Pestum con la manutenzione ordinaria l'abbiamo visto insomma in determinate occasioni e ci sono stati degli interventi anche per i più piccoli ma certo il discorso è questo che l'amministrazione comunale il governo di una città passa per le grandi opere per le trasformazioni ma passa per la cura quotidiana del territorio per la pulizia per la manutenzione per il vetro di una scuola per lo scalino davanti alla scuola o una chiesa e io con la mia amministrazione mi prendo cura del territorio della comunità e delle contrade ecco io quando sono arrivato qua tutti mi dicevano ma vedi questa non è Agropoli Agropoli è una città è compatta qua ci sono 14 contradi io l'ho vista come una grande opportunità come una grande risorsa il fatto che ci fossero tante contrade bisogna prendere dai problemi le opportunità le grandi occasioni e quindi ci siamo messi al lavoro e ogni contrada avrà avrà il suo indirizzo avrà la sua fetta di sviluppo di risorse la sua organizzazione delle cose che ha avrà il ristoro delle tante cose che non si sono fatte in questi anni passati quindi bisogna soltanto attendere stiamo agendo per priorità perché non si può fare tutto e subito abbiamo un mandato avanti da completare lo faremo senza perdere tempo perché il tempo è la risorsa più preziosa io sono un sindaco che è in municipio per 10-15 ore al giorno H24 sono al lavoro mi impegno con grande passione con grande determinazione metto a disposizione la mia competenza che ormai ho maturato in 37 anni di esperienza amministrativa Sindaco qualche giorno fa un po' di dissenso con il Presidente del Consiglio del Comune di Capaccio Pestum avete chiarito oppure resta un po' di maretta tra di voi? No, non c'è alcuna maretta il Presidente del Consiglio non gradisce il mio modo di amministrare ha manifestato più volte che non gradiva probabilmente il mio essere deciso determinato e per chi mi apprezza dice che sono determinato deciso e assumo con grande coraggio le decisioni a chi non piace questo medito sono un dittatore sono un accentratore e quindi una diversa visione delle cose a chi non sta bene la porta è aperta per quando si entra e quando si esce e con il Presidente del Consiglio è stato tutto chiarito la mia maggioranza è compatta alla mia maggioranza piace il Sindaco che decide che assume le decisioni hanno fiducia nel Sindaco che ha una grande esperienza amministrativa che viene da esperienze dove si sono realizzati i programmi che riesce a governare con buon senso con senso di responsabilità in maniera legittima e trasparente e bisogna avere fiducia del proprio Sindaco anche quando perché non è che bisogna il Sindaco la mattina va in municipio e per assumere una decisione deve avere i badanti c'è un programma elettorale ci sono le decisioni che vengono assunte con le delibere di Consiglio Comunale e di giunte il Sindaco non è che agisce con atti monocratici il Sindaco assume ogni giorno delle decisioni sulla scorta di quando gli viene suggerito con decisioni di Consiglio e di giunte e poi c'è una macchina amministrativa quindi se qualcuno pensa che si amministra diversamente il mio metodo ed è un metodo che fa realizzare programmi opere che fa crescere le città è questo probabilmente i metodi a cui sono abituati che non hanno fatto probabilmente crescere le comunità sono alti ma non mi appartengono se la città di Capaccio Pestum ha scelto questo Sindaco probabilmente perché hanno hanno apprezzato quello che io da Sindaco ho fatto in altre comunità quindi io non faccio polemiche nel senso se una persona non piace come io faccio il Sindaco prende le distanze e fa il suo corso perfetto sei stato chiarissimo è successo anche in altre parti non tutti non posso piacere a tutti a me la cosa che interessa è che il rapporto di fiducia che si è instaurato un anno e quattro mesi fa con la comunità di Capaccio Pestum resti intatto e che crisca poi qualcuno a qualcuno non piace il Sindaco Alfieri se ne faccia una ragione me ne faccia una ragione pure io Perfetto per concludere Sindaco non abbiamo avuto modo di commentare un po' i risultati delle scorse elezioni regionali mi piacerebbe una tua analisi e poi ti lascio al tuo lavoro perché so che sei super impegnato ma le elezioni regionali per quanto mi riguarda sono andate molto bene la riconferma del governatore De Luca mi conforta e ci conforta perché è una guida sicura esperta che va a consolidare e a portare avanti un lavoro di programmazione imponente che è stato fatto e che io conosco benissimo essendo stato un collaboratore di primo piano del presidente De Luca abbiamo in corso il master plan della Costa Sud da Salerno a Castellabate c'è tutta una serie di programmazioni di grandi infrastrutture vedi l'aeroporto e finalmente si sono sbloccati i lavori con la decisione del Consiglio di Stato c'è la Versana da portare avanti e penso che fra qualche mese sarà realizzato e appaltato il lavoro che ci avvicina all'aeroporto e ci avvicina a Salerno c'è la grande infrastruttura viaria da Agropoli e quindi passa per Capaccio fino a Debole un collegamento veloce con l'autostrada ci sono queste cose da fare e si possono fare solo con una regione guidata da un uomo deciso determinato e anche De Luca viene definito un dittatore un accentratore ma è uno che fa le cose perché o ci sono persone decise determinate che passano anche per dittatori ma ovviamente a chi non piace non piace ma De Luca è stato riconfermato è stato eletto e sono stati eletti molti miei amici in consiglio regionale ma a me quello che interessa è che si facciano le cose quindi io ho fatto in modo di far giungere personalmente ho fatto gli auguri al presidente De Luca e gli amici consiglieri regionali ho formulato gli auguri a tutti gli assessori che conosco in gran parte gli assessori regionali quelli confermati e quelli ne ho eletti quindi io sono molto fiducioso nella nuova giunta De Luca che sicuramente con la continuità realizzerà tutte le cose che ha messo in campo siamo alla vigilia di una nuova programmazione dei fondi europei con il recovery fund abbiamo una grande risorsa di fondi europei che per il mezzogiorno potrà rappresentare una svolta soprattutto per le grandi infrastrutture vedi l'alta velocità che per noi rappresenta sicuramente un un segnale di grande possibilità anche per i flussi turistici e di collegamento con il resto del paese quindi io sono molto molto fiducioso il covid ha fatto danni enormi soprattutto in termini di vite umane ma ha fatto anche superare questo grande drago invincibile che era il patto di stabilità l'indebitamento e quindi però quello che è importante è che questi investimenti copiosi che sono arrivati in Italia e che arriveranno nel mezzogiorno siano spesi bene e in questo noi saremo attenti e vigili nel programmare e chiedere fondi davvero che vanno indirizzati verso priorità Franco un'ultimissima domanda credo sia dovuta anche nei tuoi confronti perché ti sei battuto anche tu in prima linea l'attivazione del reparto covid nell'ospedale civile di Agropoli sembra insomma che lavori a pieno regime ci sono state già delle dimissioni e queste sintomi insomma che il presidio lavora bene con professionisti al suo interno e presto anche l'attivazione di altri dieci posti letto proprio per intensificare le terapie intensive io dico dove sono quegli scienziati quei grandi politici che parlavano che il covid l'ospedale il centro covid di Agropoli era stato fatto e non si apriva lo spreco che l'ospedale non funzionava che non c'era questo e non c'era questo dove sono questi signori oggi l'ospedale di Agropoli che è un presidio soprattutto per il nostro territorio innanzitutto dopo pochi giorni che era stato attivato il centro covid si è riempito funziona ed è una grande diciamo risorsa di serenità almeno per il nostro territorio e ci auguriamo che non non serva ma ci stiamo ormai abituando all'idea che serve e come e sarà anche potenziato e poi quello che voglio dire che una volta che questa emergenza passerà l'ospedale di Agropoli al suo interno è diciamo completo di tutte le strutture voglio dire che ci sono tre sale operatorie complete c'è la rianimazione che non soltanto è servita al covid servirà anche per le sale operatorie e per il pronto soccorso quindi l'operazione ospedale di Agropoli oggi nessuno ne parla più anche quei grandi soloni quei grandi scienziati che hanno fatto la campagna elettorale contro De Luca le regionali che avevano iniziato a fare la campagna elettorale alle comunali sull'ospedale di Agropoli oggi non li sento parlare oggi che l'ospedale di Agropoli sta assistendo decine di persone purtroppo cadute nella pandemia cadute nel virus del covid sono curate nella nostra struttura ospedaliera di Agropoli non parlano sono stanno zitti e quindi io voglio dire ai cittadini che nel territorio c'è una classe di dirigenti seria che fa le cose che non parla davanti ai bar e non va a chiacchiere sui social ma lavora con nelle istituzioni e con le altre istituzioni per portare a casa e sul territorio i risultati per assicurare servizi lo facciamo da tempo non in maniera estemporanea e questa è la classe dirigente di ieri di oggi e se vorrete anche per domani ancora per qualche anno che ancora abbiamo un'età che ci possiamo consentire lucidità forza fisica e soprattutto ancora abbiamo un cervello che può mettere a disposizione risorse ed esperienze per la comunità che amministriamo una promessa però te la voglio strappare oggi Franco ed è quella che sono sicura che tu non ti sottrarai insomma a mantenere a portare avanti dopo che terminerà tutta questa emergenza e ci auguriamo davvero prestissimo che l'ospedale possa continuare ecco il suo lavoro da ospedale vero e proprio con quello che appunto elencavi tu al suo interno e quindi che possa riappropriarsi del suo pronto soccorso compresi i codici rossi insomma gialli verdi bianchi e che la popolazione possa effettivamente sentirsi sicura dal punto di vista del diritto alla salute io non solo lo ribadisco una volta passata l'emergenza covid e ci auguriamo che avvenga da subito l'ospedale di Agropoli ha oggi al suo interno attrezzature tali che sicuramente il pronto soccorso potrà essere riaperto e sicuramente potenziato rispetto a quello che era poi non ci dobbiamo fare illusione non possiamo avere il San Leonardo il Cardarelli o il Cotugno ad Agropoli perché non è che possiamo ricevere tutti i codici perché non ci dobbiamo fare illusione né possiamo aprire un pronto soccorso che mette a repentaglio le nostre vite se c'è un trauma gravissimo però quello che possiamo dire è che avremo una struttura degna del servizio sanitario e sicuramente per le strutture e le attrezzature che sono state acquistate e che sono nell'ospedale saremo soddisfatti di quello che noi tutti quanti vogliamo perfetto ci auguriamo insomma che possa davvero continuare il lavoro ecco da vero e proprio presidio ospedaliero grazie Franco come sempre per la tua disponibilità e un saluto a tutti gli amici e ci sentiremo poi prossimamente in futuro per fare sempre ulteriori aggiornamenti ci auguriamo sempre positivi va bene grazie ancora buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti